Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video dove parliamo delle due grandi opportunità che ci offre oggi il mondo del digitale. Ricevo infatti molto spesso questa domanda da parte di persone che si stanno avvicinando al mondo dell'online e non sanno da dove partire, hanno bisogno di chiarezza. Allora, partiamo da queste due grandi opportunità e poi le andiamo a spiegare. Secondo me, i due più grandi trend che ci sono oggi sono l'e-commerce e lavorare da social media manager. E andiamo a vedere il perché. Faccio una premessa, ci sono ovviamente anche altre opportunità, cioè il self-publishing per esempio, l'affiliate marketing, il network marketing. Però a mio modo di vedere, se uno sta partendo oggi e si sta avvicinando all'online, ci sono due scenari essenzialmente. C'è chi ha già una propria attività, quindi un imprenditore che ha già un prodotto da vendere, e poi c'è chi parte completamente da zero e non ha ancora competenze. Allora, chi ha già un prodotto da vendere oggi non può ignorare l'e-commerce. Si è spostato tutto online, le persone hanno cambiato completamente le loro abitudini, hanno creato proprio delle nuove abitudini, e oggi comprano tutti online, dalla spesa ai vestiti, qualsiasi cosa prenotano online. E molte persone pensano che l'e-commerce sia per forza un sito con il carrello e il bottone dove pagare. Invece l'e-commerce è semplicemente un sito ad alta conversione che permette al cliente di entrare in contatto con il fornitore di un prodotto o di un servizio. Quindi anche solamente un sito con un form di prenotazione, quello lì già è e-commerce. Quindi, se sei un imprenditore o un libero professionista, la prima cosa da fare se ti avvicini al mondo del digitale è creare un sito ad alta conversione. Se ovviamente hai bisogno di aiuto, puoi sempre contare su di me e sul mio team per darti una mano. Però non perdere il focus dall'importanza di avere un sito web. Molti lavorano sui social, curano anche i social e va benissimo, però credimi che i social servono a generare contatti. Poi le vendite avvengono sempre tutte tramite il sito web, perché è lì che le persone devono andare per poter prenotare e per vedere anche in maniera organizzata e strutturata tutti i prodotti e i servizi che vuoi vendere. Quindi, questo è il più grande trend, non ignorarlo. Chi non fa un e-commerce oggi e chi non adatta il proprio sito ad un modello di commercio elettronico è destinato completamente a scomparire nei prossimi mesi. E poi c'è chi parte completamente da zero. E ad oggi la figura più ricercata è quella del social media manager, che è anche un po' cresciuta come figura. Prima il social media manager era solamente una persona che curava i social. Oggi si occupa proprio a 360 gradi di tutta la parte digitale di un'azienda, proprio perché sono andati tutti verso la digitalizzazione. Quindi non è solamente faccio un post al giorno sui social. Le persone pensano che il social media manager faccia solamente una pubblicazione su Facebook, ma questo tutti sarebbero in grado di farlo. Invece il social media manager fa anche proprio la strategia, il posizionamento, va a curare la comunicazione strategica dell'impresa, scrive il copy, quindi i testi persuasivi per poi portare le persone a fare azione. Insomma c'è da studiare ed è una vera e propria scienza, ma è una figura che oggi è necessaria ed è fondamentale per tutte le aziende, lo stanno cercando tutti. Quindi chi sta iniziando oggi chiaramente può iniziare nel mondo del network marketing, può fare affiliate marketing, può fare self publishing. Ci sono tante opportunità che offre oggi l'online. Tuttavia devi sviluppare molte più competenze ed è molto più lungo il processo. Secondo me, anche basandomi sull'esperienza e vedendo quello che hanno fatto i miei studenti, studiare per diventare social media manager è una grande opportunità, proprio perché nel giro di pochi mesi già sei pronto e puoi subito fare azione, entrare nel mondo del lavoro con una facilità incredibile e attrarre opportunità alla velocità della luce. Quindi spero che anche questo video sia stato utile. Per chi è interessato al nostro corso social media manager ho inserito qui il link per la nostra lezione gratuita dedicata proprio a questa figura professionale dove andiamo a vedere tutti gli step essenziali per chi vuole iniziare e diventare un social media manager di successo. Il link è in descrizione e come sempre per qualsiasi domanda potete contattare direttamente me e il mio team. Un abbraccio, ci vediamo al prossimo video! Grazie a tutti!